Visto l'alto numero di contagi che negli ultimi giorni sta aumentando in tutta la regione Campania, in una nota stampa l'unità di crisi regionale fa sapere ai direttori sanitari delle strutture ospedaliere del territorio provinciale che vi è la necessità del potenziamento dei posti letto ospedalieri da dedicare ai pazienti Covid per segnalare ancora l'urgenza di attuare unitamente al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva da dedicare ai pazienti Covid il processo di riconversione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto Covid, anche ripristinando soluzioni già adottate nei mesi precedenti con riferimento ai presidi ospedalieri interamente dedicati. Per quanto riguarda il presidio Vallo Agropoli, nei giorni scorsi il direttore sanitario Adriano De Vita ha convocato una riunione con le sigle sindacali per comunicare quanto deciso. Il sindacato FSI USAE si è espresso con parere contrario su quanto pare sia stato già deciso, ovvero la riapertura del reparto di attesa Covid, appoggio in attesa di trasferimento, tra l'altro già in parte riattrezzato prima dell'informativa presente presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. C'è stata una riunione convocata dal direttore sanitario della DEA Vallo Agropoli, già la convocazione sembrava un po' strana, inviata ieri per oggi. Certamente non è che si è accolto di sorpresa perché lo stato attuale di aumento dei casi Covid potrebbe prevedere delle azioni di programmazione futura, anche se ci meravigliamo perché finora non mi pare che si è mai parlato di programmazione, però non vogliamo fare sempre i polemici. Intanto c'è stata questa convocazione all'ordine del giorno, c'era una riorganizzazione tecnica che veramente non veniva descritto di cosa avremmo dovuto parlare. A questo punto ieri stesso ho fatto un rapido sondaggio, veramente non è stato tanto rapido, sono stato due o tre ore a telefono a sentire gli operatori sia dell'ospedale di Vallo ma anche quello di Agropoli perché immaginavamo che ci fosse in pentola qualcosa che bolliva. Effettivamente già da venti giorni a questa parte mi hanno riferito che si stava già riattrezzando il reparto al secondo piano dell'ospedale di Vallo della Lucania per ospitare casi Covid di terapia intensiva e subintensiva. Questo naturalmente ha meravigliato molto me, tra l'altro ho sentito tanti pareri negativi, nessuno che era a favore di un eventuale risvolto che probabilmente dovrebbe già quasi partire perché tra l'altro ci hanno convocato e sembra cose fatte. Ripeto, il reparto Covid stamattina mi hanno detto che hanno trasferito perfino dei ventilatori, quindi sono pronti, hanno fatto i controlli elettrici e l'unico problema che mancherebbe è il personale e quindi per questo motivo siamo stati convocati perché poi quando cominci a mettere mano al personale, visto che non è che abbiamo queste squadre di pronto intervento, bisogna come dire tagliare da qui da là, fare il tagli e cuci per i reparti e quindi probabilmente il direttore sanitario ha pensato bene di informarci quantomeno anche per far vedere, anche se ripeto la voce nell'ospedale di Vallo era già bella corsa, tant'è vero che come dire si stavano facendo un sondaggio per dire a chi capiterà questa gestione. Nella nota c'è un dettaglio, voi avete anche sottolineato di realizzare a questo punto, visto che è stata volontà anche della regione Campania il Covid Hospital di Agropoli, quindi di realizzare il pronto soccorso Covid perché ribadiamo anche a chi ci sta seguendo che la trafila che i pazienti Covid effettuano quando devono essere trasferiti proprio ad Agropoli è quella di arrivare prima a Vallo e poi vengono eventualmente portati nel Covid Hospital di Agropoli, ma che senso ha insomma avere una struttura Covid nella città di Agropoli quando un paziente poi deve perdere tutto questo tempo per essere poi trasferito a Vallo e poi ad Agropoli, sembra un pacco costale insomma. Quindi la vostra proposta era quella di realizzare il pronto soccorso che attualmente chiamiamolo pronto soccorso c'è ad Agropoli ma di attivarlo come Covid, pronto soccorso Covid, un po' come è successo a Scafati che è un ospedale ad indirizzo Covid interamente. Interamente Covid, sì, no va bene, è chiaro che questa idea prima ancora che la dessimo noi perché per noi sembra scontato, è come la vecchia gestione del reparto di medicina che c'era prima del Covid ad Agropoli. Per noi se il DEA di primo livello si chiama Vallo Agropoli, il reparto di medicina di Vallo e Agropoli per noi è un reparto unico che potrebbe essere gestito da un unico direttore che invece di avere 20 posti in letto ne ha a disposizione 48 e quindi li gestisce da un'unica regia, come del resto l'ospedale Vallo Agropoli viene gestito da un'unica regia, un unico direttore. Quindi allo stesso modo il pronto soccorso non capiamo questo fermo che si è sempre parlato, la rete dell'emergenza, rimetterlo in rete, Agropoli e quant'altro. Ma detto questo veniamo all'argomento specifico. Noi nella nostra nota abbiamo evidenziato, perché abbiamo raccolto questa segnalazione da chi era presente a una riunione del 14 dicembre a Salerno dove sembrerebbe che è stato ipotizzato come dire l'attivazione del pronto soccorso di Agropoli per i casi Covid, sembrerebbe che lì erano tutti d'accordo tranne, ci è stato riferito, attenzione quindi con le dovute tolleranze, proprio il direttore sanitario di Vallo Agropoli che invece dovrebbe essere a favore di questa cosa. Anche perché questa riattivazione, attivazione o che dir si voglia viene spontanea, perché se noi, speriamo mai, però se torniamo alle vecchie emergenze, quando ci sono state le emergenze Covid, noi il pronto soccorso di Agropoli in particolar modo lo tenevamo praticamente bloccato, perché normalmente ci accedono 10 persone con la macchina, perché le ambulanze non ci vanno. Se adesso si identifica Agropoli per Covid, quelle 10 persone neanche ci vanno più. E noi abbiamo un turno H24 di pronto soccorso con personale che sta lì, diciamo, inattivo? E' quello che diciamo da parecchio tempo, anche noi come emittente televisiva, tu lo sai bene, insomma sei stato anche ospite di una delle trasmissioni dove ci siamo occupati appunto del presidio ospedaliero, ovviamente dobbiamo anche dire che la radiologia nell'eventualità di un paziente positivo che si rega al Covid o al Covid ospitolo, oppure viene trasferito nella struttura, viene temporaneamente bloccata, quindi un cittadino che necessita di una radiografia deve andare in altra struttura, quindi non so fino a che punto possa essere utile effettivamente al territorio il PS nel presidio ospedaliero. Ma noi siamo andati ancora nel più semplice, perché noi abbiamo semplificato, ripeto, partendo dall'assunto, dalle coste certe, l'ASL Salerno ha identificato due poli Covid, Scafati e Agropoli, quindi se il direttore di Scafati si sta adoperando, si è già adoperato per aumentare i posti letto e poi parliamo di 7, 8, 10 posti letto, non è che stiamo parlando di 50, 100, che mi serve un'altra struttura, che sarebbero i 10 posti letto, 7, 8, 10 che il direttore sanitario di Vallo vuole attivare a Vallo. Non troviamo il posto ad Agropoli per aumentare di questi 10 posti letto? Va bene, è coinvolto anche Agropoli, quindi invece di 10 ne dobbiamo aumentare di altri 20, ma noi vediamo indicato la sede naturale dei posti Covid a sud di Salerno e naturalmente non l'abbiamo indicato noi, è Agropoli, deve essere fatto tutto su Agropoli, anche perché tornando a Monte, il problema di Vallo è che noi siamo un'undea che abbiamo 23, 22, 23 specializzazioni, dobbiamo tornare a fare l'ospedale per le altre specializzazioni, le percentuali di casi, non dico di morte, ma di patologie di altra natura sono aumentate all'infinito, perché la gente purtroppo con la paura del Covid non si cura altre cose, non partecipa più agli screening e le percentuali le trovate su Google, se smanettate un attimino, i casi di pazienti oncologici, casi di morti cardiache sono aumentate all'infinito, perché non ci sono più gli screening, perché la gente non viene più in ospedale, perché noi già l'anno scorso, quando ad ottobre fu attivato il reparto di Agropoli, noi dicemmo a Vallo, al direttore sanitario, dicemmo che avrebbe dovuto chiudere quel reparto che noi avevamo su Vallo e noi stiamo pagando lo scotto di quella ritardata chiusura di quel reparto di Vallo, perché attualmente, l'abbiamo scritto nella lettera, noi giriamo a un tasso di occupazione posti letto che non supera i 150 posti letto al giorno su 250, noi stiamo girando ad accessi di pronto soccorso che sono ridicoli e in più al pronto soccorso di Vallo, tra le altre cose, non capiamo perché, sembra sia stato potenziato il personale per non accogliere persone, perché non abbiamo più il tasso di frequenza che c'era prima e in più le persone che arrivano, il più delle volte purtroppo, più i casi sono gravi e più facciamo solo da corrieri, li smistiamo ma non li ricoveriamo. Quindi tutto questo, davanti a tutte queste, sembra un'assurdità pensare in questo momento di ridurre l'attività degli altri reparti dell'ospedale di Vallo per fare posto a otto posti letto di terapia intensiva, subintensiva, quello che sia, divisi secondo le loro erogative, su Vallo della Lupana. Le motivazioni del direttore sanitario sono state quelle che se gli arriva il caso urgentissimo al pronto soccorso di Vallo, lui lo deve accogliere, perché se non ci fossero posti in giro, lui deve accogliere, è una logicità anche questa, siamo d'accordo, però anche in altri ospedali, se tu lo accogli in attesa di trasferimento e lo stabilizzi, lo fai giù, l'intubazione la puoi fare anche in ambulanza. Non c'è bisogno di predisporre le parti. Anche per dare una garanzia agli utenti che quando levano nella struttura si sentono sicuri di entrare in un presidio ospedaliero e non in un Covid hospital, perché il Covid hospital è altra cosa, lo abbiamo ad Agropoli. Insomma, lo hanno voluto in Regione Campania, l'Asola di Salerno ha individuato la struttura agropolese, non vedo perché Vallo della Lugania debba togliere, appunto come dicevi tu, personale e servizi ai cittadini, che sono tra l'altro importanti in questo periodo perché sembra che si muore solo di Covid, ma così non è. Non è così, è di fatti, e poi alla fine di tutto questo è il problema finale, che al cittadino viene negato il diritto alla salute, di altre patologie. Se noi finora abbiamo perso la PIL, tra virgolette, della frequenza del nostro ospedale, anche perché non abbiamo saputo trasmettere sicurezza comunicativamente parlando. Vedi i vari assembramenti che ci sono stati, vedi l'ipotesi che abbiamo fatta per queste date di vaccinazione dove l'organizzazione a volte non è che ha funzionato più di tanto. Roberto, allora, quindi diciamo che i giochi sono fatti, ma i sindacati come si muoveranno comunque in futuro, vista la decisione presa del direttore sanitario? Veramente i giochi, diciamo c'è ancora una piccola percentuale di tolleranza, speriamo che i giochi non siano ancora fatti. Anche se noi, io personalmente ho avuto l'impressione, come altre volte, che una volta annunciata una cosa del genere sembra già fatta, quindi perché sono decisioni prese, non sappiamo neanche da chi, però partono direttamente in quarta. Ma detto questo è chiaro che i colleghi ci informavano di un'eventuale riunione dove si ipotizzava, si doveva valutare anche con persone di Agropoli per valutare questo potenziamento di Agropoli, quindi può darsi pure che da questo potenziamento, considerate anche il rumore che stiamo facendo, che abbiamo fatto in queste poche ore, può darsi pure che c'è una rivisitazione di quello che si vuole fare e si opta solo per Agropoli.